Ciao, sono Matilde, ho 7 anni, frequento la prima B e ho imparato a leggere e scrivere. Sono Paolo, ho 12 anni e ho frequentato la prima media e in quest'anno ho imparato a parlare francese. Ciao, sono Edoardo, ho 14 anni e quest'anno ho frequentato la prima liceo scientifico. Ho imparato a operare con i vettori e con le equazioni. Sono Edoardo, ho 19 anni, ho frequentato il primo anno della facoltà di dietistica e ho imparato come prevenire le intossicazioni alimentari. E dopo arriviamo noi, Formapper, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, che da 30 anni si occupa di sostenere le imprese e le persone nel loro percorso di crescita, sviluppo e trasformazione. In un mondo di continui cambiamenti e ricco di incertezze, la formazione diventa una delle leve strategiche per attivare processi di consolidamento e di consapevolezza dei propri saperi. Il Fondo Impresa è uno strumento privilegiato che forma per utilizza per realizzare la formazione come la intendiamo noi. In particolare con il piano ARCO ci siamo concentrati sullo sviluppo delle competenze in materia di innovazione organizzativa, digitalizzazione e internazionalizzazione, tre asset cruciali per le persone e per le imprese. La formazione per Bosto Consulting Group viene intesa come una formazione innovativa, creativa e coinvolgente. Fondo Impresa per Bosto Consulting Group è un'occasione per accrescere le opportunità formative per le nostre persone. Con il progetto ARCO abbiamo puntato a sviluppare competenze di soft skills con riferimento al comportamento organizzativo e agli stili di leadership. Le persone di Bosto Consulting Group che hanno partecipato al progetto ARCO sono state circa 20. Il prossimo appuntamento con la formazione in Bosto Consulting Group puntiamo sulle technical skills mentre con Formaper stiamo sviluppando un nuovo percorso di soft skills. Mi chiamo Alessia, ho 42 anni e l'ultimo corso che ho frequentato è Leadership and Influence in English realizzato da Formaper e finanziato da Fondo Impresa. Per me è importante fare formazione perché ritengo lo sviluppo professionale e la crescita continua di ciascuno di noi fondamentale per il nostro percorso professionale. Per me un corso per essere utile deve essere concreto, strutturato e dinamico. Il prossimo corso che vorrei fare gestendo la segreteria del nostro amministratore delegato e del direttore marketing d'Italia Preci e Turchia ritengo possa essere un training che tratti le regole del cerimoniale e dell'etichetta da seguire nella gestione delle relazioni ufficiali con cariche pubbliche, personalità politiche e private per migliorare le mie soft skills. Mi chiamo Monica Anthony, ho 45 anni e ho frequentato un corso su emotional agility realizzato da Formaper e finanziato da Fondo Impresa. Per me è importante fare la formazione perché arricchisce la mia crescita professionale. Per me un corso deve essere didattico, mirato e stimolante. Il mio prossimo appuntamento con la formazione vorrei che fosse un approfondimento sull'emotional agility. Per la nostra azienda la formazione è innanzitutto un giocare d'anticipo, quindi un anticipare problematiche future, un cambiamento che si renderà necessario. In secondo luogo la formazione è gestione dei talenti, quindi un investire sullo sviluppo delle nostre persone e infine direi che la usiamo anche come strumento di motivazione. Fondo Impresa per la nostra azienda è un'opportunità per fare formazione continua in periodi in cui c'è una maggiore attenzione ai costi aziendali e quindi un'opportunità per continuare ad investire sulle persone. Con il progetto ARC l'anno scorso abbiamo puntato a sviluppare competenze sia in ambito tecnico, intendo linguistico e informatico che sono alla base un po' di tutte le funzioni in azienda e d'altro canto su abilità manageriali. Complessivamente l'anno scorso, considerando tutto il progetto ARC e quindi i vari corsi di formazione che abbiamo proposto, abbiamo avuto in aula più di 30 persone. Il prossimo appuntamento con la formazione sarà prestissimo, a luglio abbiamo in programma un intervento formativo per il Dipartimento Vendite, concentrato sulle tematiche della collaborazione e dell'abbattimento di alibi. Conto di portare in formazione anche il top management in autunno e infine cominceremo presto ancora con i soliti corsi di inglese e di Excel. Sono Concettina, ho 44 anni e ho frequentato un corso di Emotional Agility organizzato da Formaper e finanziato da Fondi Impresa. Per me è molto importante fare formazione, sia per una crescita professionale che per un accrescere le competenze tecniche. Perché un corso sia utile deve essere coinvolgente, stimolante ma soprattutto interessante. Per il prossimo corso che vorrei fare sono combattuta tra un corso di competenze tecniche e anche un corso che mi permetta di migliorare le mie competenze linguistiche. I tre aggettivi che definiscono la formazione della nostra azienda sono essenziale, stimolante e culturale. Fondi Impresa per la nostra azienda è un'opportunità per tutte le insegnanti per poter accedere a dei corsi di formazione e in più dà la possibilità anche a livello economico di poter accedere a questi corsi. Col progetto ARCO abbiamo puntato a sviluppare competenze in ambito pedagogico, in ambito comunicativo e linguistico. Alle attività formative del progetto ARCO hanno partecipato 24 dipendenti, parte della scuola dell'infanzia e parte della scuola primaria. Il prossimo appuntamento con la formazione è per la scuola dell'infanzia legato al disagio infantile, mentre per quanto riguarda la scuola primaria l'idea è quella di fare un corso di formazione legato all'insegnamento di musica nella scuola primaria. Buongiorno, mi chiamo Emanuela, ho 47 anni, ho frequentato un corso sulla prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento realizzato da Forma per e finanziato da Fondo Impresa. Per me è molto importante fare formazione perché un insegnante deve sempre tenersi aggiornato e soprattutto in ricerca continua. Un corso per essere utile deve essere serio, condotto quindi da dei professionisti, coinvolgente e anche esemplificativo. Il prossimo corso che vorrei fare è un corso sull'insegnamento della musica nella scuola primaria. Grazie. Grazie.